Gabriele Gravina ha spostato all'otto il Consiglio federale e quindi di conseguenza l'ho spostato tra le altre cose risolvendo un problema che il 4 si sarebbe posto, una serie di presidenti sarebbero stati assenti perché come voi saprete il 4 è la ripresa di alcune attività produttive. Tre giorni in più, 72 ore extra e quattro grandi nodi sul tavolo, sospensione definitiva del campionato individuazione dei criteri per le quattro promosse in B, possibili stop, retrocessioni in D e ripescaggi dai dilettanti sono i temi che discuterà l'assemblea di Lega Pro slittata al 7 maggio ma nel corso dello speciale Telesveva Sport il presidente Francesco Ghirelli a capo della terza serie del calcio italiano indica le altre tappe da affrontare cassa integrazione per giocatori e dipendenti dei club e riforma del campionato. La mia azione è rivolta in questa direzione per quanto riguarda la cassa integrazione per i calciatori tecnici, il personale sotto i 50 mila euro, questo è un passaggio fondamentale, sarebbe veramente un disastro sarà un lavoro di lacrime e sangue per tagliare i costi, per fare investimenti nei settori strategici e la sostenibilità economica della Lega Pro. Il secondo elemento è ragionare sul campionato e già qui la materia è abbastanza forte. Tanta carne al fuoco mettendo alle spalle la tempesta nel bicchiere provocata dalla fuga di notizie dopo il consiglio direttivo del 18 aprile. Sappiamo perfettamente che questa è una proposta della Lega Pro con il passaggio il giorno dopo al Consiglio federale che è il dominus della situazione, è il soggetto che può decidere, anzi ha il compito di decidere. La possibilità di un sorteggio per la quarta promossa in B in particolare turba alcuni club tanto che c'è anche chi si è mosso con un esposto. E l'hanno presentata in particolare il Bari e il Carpi. Noi possiamo fare, noi avevamo già dato in carico a un ufficio esterno legale, a un grande ufficio legale e giuridico di che cosa verificare? La fondatezza, se nelle carte federali ci sia o meno fondatezza per questa soluzione. La certezza è che se non si finirà la stagione sul campo, ipotesi di fatto certa per la regular season, andrà trovata una soluzione fondata il più possibile nelle regole federali e che limiti al minimo i contenziosi legali. Nell'elenco rientrano Final Four e Final Eight playoff da giocare e stilare in base alla classifica dal secondo posto in giù. Tutte le formule sono belle, i play sono la cosa più bella che abbiamo inventato nel corso di questi anni. Si scontra con questo problema, firmano e io non lo so. Si prendono l'impegno di non andare, io so una cosa che bisognerebbe evitare di andare in tribunale. La data del 18 maggio è quella ipotizzata dal governo per la ripresa degli allenamenti ma a patto di poter applicare il protocollo sanitario redatto dalla Commissione Tecnico-Scientifica della FIGC. Chiarito questo punto, bisognerà valutare se ci sono le condizioni per tornare a giocare. Io credo che il Presidente debba decidere, cioè si debba assumere la responsabilità, perché questo è un paese in cui ci si nasconde spesso. Grazie. Grazie.